Siamo nel cuore del centro storico di Ulx, più precisamente in via de Zamboura. L'appartamento si trova in una casa tipica del luogo, dove ci sono in totale tre appartamenti. Non è stato fatto il condominio e quindi non ci sono spese condominali. L'appartamento è completamente autonomo. L'ingresso dà subito su questa stanza, che può essere adibita come stanza a ospiti, eventualmente posizionando un divano letto sulla sinistra. Da questo corridoio invece proseguiamo nella camera da letto matrimoniale. La finestra, che si vede giù in fondo, dà su via de Zamboura. Gli infissi sono stati cambiati recentemente, quindi la casa è ben isolata e silenziosa. Proseguiamo con il giro della casa. Sulla destra, come possiamo vedere, c'è il bagno con doccia. È stata posizionata sulla sinistra una finestra, un vetro, satinato per dare privacy e più luminosità al bagno. L'appartamento si sviluppa su due livelli, quindi ora da questa scala in legno proseguiamo nella zona giorno. Sulla sinistra è stata inserita la cucina. Dalla cucina ci spostiamo nel salotto, dove hanno fatto un cammino a legna che scalda tutta la parte superiore della casa. Sulla destra vediamo il divano letto. E ora usciamo sul balcone. Il balcone ha una vista meravigliosa su tutta la parte antica di Wilkes. Di pertinenza della casa c'è ancora una cantina e un box-out molto spazioso.